Ovvero dei modi per usare, diciamo, le scienze cognitive e la psicologia per migliorare il nostro approccio a come disegniamo le nostre interfacce, ma soprattutto come facciamo user experience. Spendo giusto due parole velocissime per presentarmi, mi chiamo Emilia Ciardi e lavoro nel campo della user experience e del product management da parecchi anni, lavoro con Sparkling Labs e anche come, diciamo, consulente di lungo periodo per IGT. Detto questo, entriamo subito in argomento. Non possiamo pensare di esaurirlo perché è veramente un argomento vastissimo, però cercherò di darvi una buona panoramica e di capire soprattutto quali sono le basi della Cognitive UX. Infatti il primo passo è proprio capire cosa sono le euristiche e i bias, che sono un po' i mattoncini fondamentali che utilizzeremo nella nostra presentazione per capire come muoverci. Allora, prima di tutto dobbiamo capire che diciamo che il nostro cervello è veramente una macchina molto complicata. Ci siamo sempre domandati ma come facciamo a processare trilioni di decisioni ogni giorno? Non vi sto parlando delle decisioni consce, ma di tutti i processi che avvengono praticamente in maniera istantanea. Per esempio adesso io sto decidendo dove muovere il mio sguardo, sto decidendo che parole dirvi e questo lo sto decidendo ad una velocità folle, un qualcosa che veramente ha qualcosa di magico. La prima teoria che un pochino ha affrontato questo problema è stata quella di William James, che era uno psicologo e filosofo americano, che verso la fine dell'Ottocento elaborò questa teoria secondo la quale il nostro ragionamento si divide in due sistemi. Uno che diciamo si muove a rapidità molto elevata e che è molto intuitivo, si basa sulle esperienze passate e sulle associazioni delle idee ed un altro che invece è più analitico e ragiona sulle cose in maniera più calma, tranquilla ed è quello che noi normalmente riconosciamo come ragionamento. Lui non era tanto lontano dalla realtà, infatti nel 2002 venne fuori Kahneman, lo studioso principale nel campo proprio dei processi psicologici dell'essere umano, che infatti ha vinto anche un premio Nobel per l'economia, perché i suoi studi sulle nostre decisioni, sui nostri processi decisionali e come talvolta essi non siano completamente razionali, ma siano affetti appunto da bias, gli ha guadagnato appunto il premio Nobel. E lui appunto si ispirò evidentemente un po' anche alla teoria, la riprese questa teoria di William James e formulò la teoria del dual processing, cioè del processamento in due sistemi, fatto, svolto diciamo da due agenti. Questo processo appunto, lui lo descrisse così, abbiamo due sistemi, il primo che possiamo un po' riconoscere come l'intuizione, il secondo che possiamo riconoscere come riflessione o ragionamento, che hanno veramente delle caratteristiche molto differenti e scattano in momenti diversi. L'intuizione, cioè il sistema 1, questo agente, è praticamente sempre e costantemente al lavoro. Di converso il sistema 2 invece entra in gioco solamente se c'è bisogno di fare qualche scelta davvero più ponderata, diciamo così. Quindi il sistema dell'intuizione ha una serie di caratteristiche, è automatico, è inconscio, è molto veloce, è anche caldo, diciamo, nel senso che risente delle emozioni della persona e per questo, diciamo, è anche prono ad errori. In realtà scopriremo che questo system 1, malgrado molto efficiente e super veloce, è prono a questi errori, a questi errori sistematici che chiamiamo bias, proprio perché fa uso di oristiche. Viceversa, il sistema del ragionamento, l'agente numero 2, è lento, è deliberato, è conscio, fa le cose, diciamo, con una certa freddezza ed è piuttosto affidabile in quanto utilizza un procedimento analitico per arrivare alle sue decisioni. Però, proprio perché il sistema 1 è super veloce, è la lepre, diciamo, comparata alla tartaruga del sistema 2, viceversa rispetto a quello che accade nella classica favola, arriva quasi sempre primo. Cioè il sistema 1 è quello che nella maggior parte dei casi arriva rapidamente ad una decisione. Questa decisione viene, diciamo, approvata di Cassazione, perché è molto veloce, e quindi il sistema 2 non entra nemmeno in gioco. Diciamo, il sistema 2 viene chiamato in gioco soltanto quando il sistema 1 riconosce che c'è bisogno di un effort in più per arrivare ad una risposta e quindi scatta a quel punto il sistema 2. È proprio per questo motivo che dobbiamo interessarci di capire come lavora questo sistema 1, questo agente numero 1. L'agente numero 1 usa delle euristiche, ovvero dei metodi decisionali che sono molto, molto veloci, ovviamente, però non si propongono di trovare la soluzione ottima. E in genere, infatti, non la trovano. In genere trovano una soluzione accettabile che riesce, in pratica, a raggiungere lo scopo immediato che ci stiamo prefissando. Sono dei sistemi bellissimi, le euristiche, li utilizziamo anche nel fare i nostri software molto spesso, no? E il nostro sistema 1 li usa automaticamente, senza sforzo, diciamo, però questo ci porta talvolta a degli errori sistematici che sono appunto i bias cognitivi. Perché sono sistematici? Perché chiaramente sono insiti nella natura dell'euristica. Se l'euristica funziona in un certo modo, ci avrà in pratica delle aree cieche, diciamo, che quindi fanno posto all'ingresso di questi bias. C'è anche qualcosa che dobbiamo tener conto in più, diciamo, una cosa che potrei definire una brutta notizia, il primo di questi bias che abbiamo è che siamo ciechi ai bias. Cioè, noi non ci rendiamo conto di esserne affetti, non solo, ma per quanto è molto più facile che noi li attribuiamo agli altri. In pratica siamo disposti a vedere la pagliuzza nell'occhio degli altri, ma non la trave nel nostro occhio, diciamo. E' proprio così. Quindi dobbiamo fare uno sforzo conscio, prima di tutto per conoscere questi bias di cui siamo affetti, e poi quindi per cercare di contrastarli. Ok? Quindi come possiamo, prima di tutto questi bias, ne siamo affetti noi come designer, ma anche i nostri utenti, no? In quanto esseri umani. Quindi nella prima parte io vi spiegherò i bias che sono importanti, diciamo, dalla parte dei nostri utenti e come possiamo usarli per migliorare le nostre interfacce. Nella seconda invece parleremo dei bias di cui siamo affetti noi, in quanto esseri umani e designer, e come possiamo cercare di, appunto, combatterli per fare un lavoro migliore. La prima euristica che tutti gli esseri umani usano si chiama Fluency Euristic, che significa in pratica la facilità con la quale io riesco a processare l'informazione. Se un oggetto è veramente semplice da processare, nel senso che io sono più veloce nel processarlo, capisco subito di cosa si sta parlando, allora la mia mente, automaticamente, ed è System One che sta facendo questo lavoro, mi dice questa cosa è buona, questa cosa ci piace, anzi sono anche convinto che sia vera. Cioè, paradossalmente, la Fluency Euristic mi dice che quanto più una cosa è semplice e veloce da processare, più il mio cervello la riterrà di valore elevato. sia in termini di valore percepito e addirittura ma anche in termini di verità. Cioè, se io spiego anche una cosa illogica, in maniera semplice, molte persone, in virtù di questa euristica, potrebbero ritenerla vera. Questa cosa ha anche molti portati, perché infatti questo è il primo bias che ci fa un po' ridere. Si chiama proprio l'effetto di verità illusoria. Sia una cosa spiegata in maniera molto facile e accessibile alla nostra mente, in maniera intuitiva, ok, o anche viene ripetuta, diciamo spesso, e è il caso delle fake news, per noi ci dà un'illusione proprio di verità. È per questo che le fake news funzionano, perché le sentiamo dappertutto e quindi siamo portati a crederci. Come possiamo quindi utilizzare bene l'idea che siamo affetti da questo problema della Fluency Euristic e dei conseguenti bias per fare un miglior design? Prima di tutto dobbiamo veramente impegnarci molto a migliorare la gerarchia visuale delle informazioni. Quando noi disegniamo un qualsiasi prodotto, che può essere una pagina web, che può essere un'applicazione per cellulare o per desktop, noi dobbiamo fare in modo che le informazioni, le funzionalità che presentiamo, siano organizzate in una solida e chiara gerarchia visiva, in maniera tale da minimizzare al massimo appunto la Fluency, ovvero ottimizzarla, e in questo modo le persone percepiranno automaticamente il nostro prodotto come di maggior valore. Ok? Quindi i principi del migliorare la gerarchia visuale si basano sulla scuola Gestalt, diciamo, che ha una serie di principi, ma adesso cercheremo di spiegarli in maniera molto semplice, e in pratica i principali tool, i principali strumenti sui quali dobbiamo concentrarci per fare una buona gerarchia visiva, alla fine sono le dimensioni degli oggetti. Ciò che noi desideriamo sia predominante e catturi subito l'attenzione, perché è un pezzo importante di informazione, deve essere più grande, deve attirare lo sguardo. Stessa cosa per il colore. Il colore può essere utilizzato per creare contrasto, per evidenziare ciò che è realmente importante. Inoltre bisogna anche utilizzare bene lo spazio negativo della nostra pagina, della nostra schermata, perché anche quello riesce a creare enfasi, ok, sugli elementi importanti e soprattutto aiuta a poterli distinguere gli uni dagli altri. La prossimità va utilizzata chiaramente per mantenere vicine informazioni che sono, diciamo, collegate, che sono importanti da ottenere insieme, insomma, da apprendere insieme. La ripetizione invece porta l'attenzione su un discorso di contenuti che si ripetono e che sono simili. E naturalmente anche la texture e lo stile, quindi per esempio un bottone che sia un po' più visibile, abbia uno stile differente, magari per le nostre call to action, anche questo è importante per evidenziare la sua funzione. Tutti questi elementi insieme quindi devono collaborare per creare una gerarchia visuale forte, dove forte significa semplice da processare, semplice da processare visivamente per cogliere immediatamente quali sono gli elementi salienti di ciò che stiamo offrendo, sia in termini di funzione, sia in termini di contenuto, di messaggio quindi. L'altra cosa che dobbiamo considerare per fare delle solide gerarchie visive sono i cosiddetti scanning pattern, cioè quando noi andiamo a di fatti studiare come le persone interagiscono con le nostre pagine, con i nostri prodotti digitali, in pratica si possono osservare due diversi pattern con i quali la pagina o la schermata viene scansionata. I due principali pattern, che sono stati identificati e studiati molto anche dal gruppo Nils & Norman, che sapete sono grandi esperti di usabilità, sono il pattern AZ e il pattern ADF. Il pattern AZ si evidenzia, cioè succede soprattutto quando gli utenti si confrontano con delle pagine che non sono proprio ivi in termini di contenuti. Per esempio immaginate l'home page di un sito dove si reclamizza un prodotto e quindi ci sono soprattutto delle situazioni nelle quali magari c'è un heroider o qualcosa del genere, ma non ci sono grandi, grandi contenuti, ok? In questo caso il modo in cui scansioniamo la pagina è a forma di Z. Tendiamo a guardare prima sulla sinistra, poi a leggere verso destra chiaramente, poi scendiamo giù in un pattern, diciamo, diagonale e quindi ripetiamo il processo formando questa Z. Questo è importante perché? Perché ci guida sul dove dobbiamo disporre gli elementi che vogliamo attraggano soprattutto l'attenzione all'inizio dell'esperienza del nostro utente con la nostra pagina. Non a caso infatti normalmente si mette il logo in alto a sinistra, dopodiché si prosegue con i menu in maniera tale che lui si possa subito fare un'idea di quale sia la navigazione e quindi i contenuti disponibili e poi si mette l'euro banner perché così con questo movimento diagonale noi catturiamo appieno, diciamo, la bellezza di queste immagini che magari è stata anche ben studiata per comunicare qualcosa, con un copy magari efficace e così via. Quindi ecco che dobbiamo interessarci di questo quando progettiamo una pagina di questo tipo. Viceversa, il pattern AF accade soprattutto in pagine ricche, ricche, ricche di contenuti. Immaginate un listing di risultati da Google, immaginate la lista di video su YouTube, cioè pagine che sono concentrate sul listare contenuti, dare tantissimo, tantissimo contenuto. Chiaramente sfruttano moltissimo come chiave l'elemento di ripetizione che abbiamo visto prima nelle gerarchie visuali e appunto sapendo che il movimento dell'occhio seguirà questa F, cioè in pratica scansionerà delle righe se volete, anche così noi riusciamo a capire come disporre meglio gli elementi. Se stiamo presentando per esempio degli oggetti in una lista magari tenderemo comunque a mettere sulla sinistra qualche cosa che è di impatto, mi faccia subito capire magari che cosa aspettarsi da quel contenuto. Quindi questa in generale è la guideline. Se vogliamo fare delle gerarchie visuali efficaci dobbiamo anche considerare questi pattern con i quali il contenuto verrà scansionato. Un altro elemento importante è la gerarchia tipografica. Perché? Perché chiaramente perché essa è il principale veicolo con la quale noi diamo il messaggio ai nostri utenti, dobbiamo scrivere qualche cosa per comunicare con i nostri utenti. E è consigliabile mantenere la gerarchia della tipografia su tre livelli, diciamo su canali quali il desktop web, mettiamoci in questo canale, no? Mentre invece quando andiamo su dispositivi mobili dove lo spazio è ristretto, tre livelli risultano eccessivi ed è bene mantenere due livelli. Anche per la tipografia chiaramente ha senso cercare di migliorarne la gerarchia utilizzando i principi del contrasto, del colore, della dimensione. Quindi quello che è il livello primario dovrà essere caratterizzato banalmente da una dimensione maggiore. Possiamo utilizzare anche il peso, quindi utilizzare dei caratteri bold invece che magari più leggeri. Insomma, dobbiamo cercare di creare un contrasto. E anche utilizzare diversi font, cioè diversi typeface insieme, aiuta nel creare questo contrasto. Per esempio, posso utilizzare un font più bello, più estetico per la titolazione, mentre invece normalmente per il livello terziario sul web o secondario sul canale mobile andrò ad utilizzare un carattere molto leggibile. Quindi tipicamente un buon carattere che presenta caratteristiche di leggibilità molto elevata a tutte le dimensioni, anche quelle piccole. Quindi ecco che non mi focalizzo sull'estetica ma mi focalizzo sulla leggibilità quando vado a trattare il livello più basso della gerarchia tipografica. Passiamo ad un altro bias di cui siamo effetti, che anche lui è un po' figlio dell'euristica della fluency. È un po' tangente. Poiché noi appunto abbiamo detto che quando qualcosa ci sembra semplice lo riteniamo migliore, lo riteniamo più bello, in realtà questo effetto si applica anche all'estetica. Anche ciò che ci piace esteticamente viene percepito come migliore. Migliore proprio in termini anche di valori di usabilità, il che è assolutamente sbagliato, cioè non è assolutamente vero che qualcosa che è bello è necessariamente usabile. Tuttavia è questo l'effetto che induce in tutti. Perché è un nostro bias? Bisogna saperlo. E quindi che cosa succede? Prima di tutto gli utenti diventano più tolleranti ai problemi di usabilità. Non è che non li vedono, però come dire, per loro passano veramente in secondo piano, poiché è bello, tendono a perdonare o comunque ad essere meno sensibili a questi piccoli incidenti di percorso o di usabilità che trovano nel prodotto. E questo ci deve importare da due punti di vista. Prima di tutto perché chiaramente dobbiamo evidentemente sfruttarla, sta cosa. Dobbiamo aumentare i valori estetici del nostro prodotto, perché è evidentemente importante. Adesso capiremo anche meglio perché. Però dobbiamo anche stare attenti perché se testiamo i nostri prodotti per sapere se sono usabili o meno, però lo facciamo appunto in un contesto dove il nostro prodotto è super bello, dobbiamo anche sapere che probabilmente i risultati che otterremo potrebbero essere un po' viziati dal fatto che gli utenti sono particolarmente innamorati dei colori o delle immagini che abbiamo messo. Quindi dobbiamo esserne un po' consapevoli per trattare il problema. Allora, appunto, vi dicevo che si diventa più si diventa più tolleranti per i problemi. Un esempio che vi posso portare di questo sono i prodotti dell'Apple. Lo sappiamo che non sono perfetti dal punto di vista di usabilità. Forse il migliore esempio che si può dare è che hanno introdotto veramente tardi il cut and paste. L'hanno introdotto nel 2009 e tutti hanno gridato e viva il miracolo, è bellissimo, è fantastico. Però la verità è che Android ce l'aveva da sempre. Era una cosa sulla quale cioè qualsiasi canale digitale fra virgolette l'ha sempre avuto loro sono arrivati tardi però non era un problema perché tutti, tutti super tolleranti in quanto innamorati dell'immenso estetica dell'immenso design, chiaramente dei prodotti dell'Apple. Quindi ecco, ecco perché vi dico bisogna starci attenti, no? Significa che quando noi testiamo i nostri prodotti magari possiamo cercare di testarli se il nostro focus è l'usabilità utilizzando dei wireframe invece di utilizzare direttamente la versione super bella super fantastica con tutti i colori, tutte le immagini in maniera tale da ottenere dei risultati un po' più obiettivi dai nostri utenti. Inoltre questa cosa lavora a favore ma lavora anche contro. L'idea è questa se noi facciamo prodotti molto belli creiamo questo bond emotivo questo legame emotivo con le persone perché loro sentono che i valori positivi di bellezza di status di questi oggetti così belli si riflettono positivamente anche su di loro cioè come se li prestassero e loro fossero tutti anche loro come dire illuminati d'immenso diciamo perché stanno utilizzando il prodotto bello sono anche loro più belli questa cosa li fa sentire bene quindi sviluppa questo atteggiamento veramente positivo ed emotivo rispetto al prodotto che causa un attaccamento abbiamo visto prima l'immagine un po' in background della 500 era un priming volendo e quella immagine sta a dire che non era una macchina usabile non era una macchina semplice o comoda però l'attaccamento a quella macchina è qualcosa di straordinario le persone gli davano dei nomi la 500 rossa di mio padre si chiamava Isotta cioè questo tipo di attaccamento lo sviluppi solo in virtù di questa cosa l'estetica ti dà veramente questa cosa te li fa sentire come amici i prodotti non solo come diciamo dei tool e lavora anche contro se noi facciamo un prodotto brutto purtroppo risvegliamo negli utenti esattamente le diciamo le percezioni opposte cioè io se uso un prodotto brutto sono un po' brutto anche io non mi voglio associare con questa cosa quindi prima ancora di vedere se è fatta bene se è usabile che valori diciamo apporterà alla mia vita quotidiana io già la boccio cioè divento molto prevenuto nei confronti di quelle che sono le sue caratteristiche anche quelle positive sarò pronto a criticare qualsiasi piccola cosa quindi ecco che è l'esempio della duna insomma la duna è morta nella culla perché chiunque la vedeva pensava ok e nessuno si è mai posto il problema se magari fosse una macchina che risolveva dei problemi magari il prezzo era accettabile e faceva il suo lavoro egregiamente il problema nessuno se ne è posto è stato uno dei maggiori flop della storia della Fiat alla fine e contrastatelo con la 500 insomma vedete che effettivamente l'abito un po' fa il monaco evidentemente quindi per dire cerchiamo comunque di migliorare l'estetica dei nostri prodotti per non predisporre male i nostri utenti parliamo ora del priming il priming è un bias molto potente molto potente in pratica significa questo noi subiamo chiaramente milioni di stimoli al giorno però uno stimolo che magari percepiamo anche se totalmente scorrelato con una scelta che dobbiamo prendere ci darà un'influenza ci influenzerà sembra una cosa stupida eppure è molto molto concreta è vera per esempio vi faccio questo esempio che è proprio relativo all'immagine che è mostrata qui quando si fanno delle investigazioni quando proprio si fanno gli interrogatori di persone sospette per dei crimini per delle cose uno dei priming che viene usato per metterli già in questo stato d'animo nel quale si sentono un po' forzati a dire la verità è proprio di metterli in degli ambienti chiusi con dei colori aggressivi violenti perché lo stimolo che gli viene dall'ambiente gli fa un priming sul fatto che la loro libertà è ristretta loro sono in una condizione dove non hanno controllo e quindi questo li rende più deboli e più vulnerabili all'interrogatorio ci sono anche altri esempi di priming più banali se ci fanno leggere un paragrafo che parla di un qualche cosa e dopo ci chiedono di completare una parola una piccola parola che magari c'ha soltanto dei trattini noi immediatamente saremo più propensi a trovare una parola nella nostra memoria che in qualche modo ha a che fare con quello che abbiamo letto le due cose sono scorrelate noi non ci facciamo nemmeno caso però il nostro cervello ha subito questo priming questa influenza che lo porta ad andare in quella direzione preferenzialmente come possiamo sfruttare il priming per migliorare la nostra user experience innanzitutto i colori i colori sono un forte strumento di priming quando noi associamo un colore al nostro brand alle nostre pagine dobbiamo essere consapevoli assolutamente consapevoli di quali sono i messaggi che inconsapevolmente questi colori trasferiscono vi ho messo qui uno specchietto delle principali emozioni non ci addentreremo perché non abbiamo abbastanza tempo però vi assicuro che la scelta dei colori è importante sia per un brand e sia proprio per qualsiasi prodotto digitale in maniera tale da rendere le cose già ben predisposte per l'utente un'altra cosa che possiamo utilizzare per fare il priming sono metafore nelle nostre immagini nelle immagini che usiamo per corredare i nostri contenuti per corredare i nostri prodotti digitali perché una metafora può essere anche una cosa molto semplice tipo un sito un'agenzia di viaggi ok e utilizzo una bellissima immagine di una conchiglia da qualche parte questa cosa immediatamente mi darà un priming perché io la mia memoria automaticamente attacca a quella immagine un mucchio di bellissime sensazioni bellissimi ricordi che già mi danno un po' la voglia di esplorare tutte le vacanze caraibiche tutta l'offerta che questo sito ha in quel settore qui vediamo una metafora veramente mi è piaciuta molto insomma perché qua si tratta di un'agenzia che fa design e sviluppo di prodotti digitali e quindi questa metafora è veramente molto bella molto efficace secondo me perché la bellezza di questo piccolo capolavoro della natura che è questo uccellino il colibri praticamente viene sposata anche con questa metafora per vederlo un po' in radiografia ed è in realtà un prodotto digitale e quindi già ci immaginiamo diciamo la cura con la quale queste persone lavorano nel creare i loro piccoli capolavori già mi rimanda tutto un concetto di questo tipo e io ne sono inconsciamente diciamo vittima di questa forma di priming anche il colore qui lavora molto dalla loro parte è un buon esempio di priming anche col colore perché questo rosso comunica la passione con la quale loro svolgono il loro lavoro e questo è l'eccitazione anche di fare cose moderne quindi ecco la bellezza anche del priming in termini di colore inoltre anche i fonti che utilizziamo hanno un carattere quindi hanno proprio una personalità quindi quando io scelgo un carattere piuttosto che un altro automaticamente sto risvegliando delle precise emozioni da parte degli utenti quindi anche qui non mi addentrerò sui singoli caratteri perché non è possibile però vi invito a fare queste scelte in maniera consapevole in maniera consapevole perché anche loro hanno primano l'esperienza dei nostri utenti e già li predispongono a un certo tipo di atteggiamento o di preconcetto riguardo al nostro sito si parla infatti di prototipicalità nel senso le persone si formano un'idea di che cosa dovrebbe essere un business quindi nel momento in cui guardano un sito pensano ok mi sono fatta un'idea di questo di questo business lui ha questo carattere lavora in questo modo sulla base semplicemente di questi elementi di priming se non corrispondono a quella che tra l'altro è la sua immagine precostituita di quello che dovrebbe essere il sito di quel tipo di business automaticamente verrà bocciato faccio un esempio se vado su un sito che mi propone un wedding planner per esempio ok e non trovo quelle cose belle tipo quei caratteri belli un pochino classicheggianti voglio dire quel tipo di cose lì oppure tutti i colori sul bianco e l'eleganza la classicità penserò questo non lo organizzerà bene il mio matrimonio questo perché io ho delle aspettative in mente ho già un prototipo di che cosa quella attività come dovrebbe presentarsi per essere effettivamente quello che cerco e quindi noi dobbiamo cercare anche di prevedere che cos'è che si aspettano i nostri utenti cioè qual è il prototipo e noi vogliamo aderire a quel prototipo o vogliamo fare qualcosa di nuovo e fare un priming differente ok però l'importante è esserne consapevoli che questo meccanismo voi o non voi è in atto quindi dobbiamo confrontarci con questa cosa un'altra cosa che dobbiamo evitare è un priming accidentale cioè nel senso noi facciamo un priming ma un priming che ci lavora contro per esempio qui è stato fatto uno studio diciamo di questa è una forma semplicemente di registrazione molto banale però il punto è che qui sottolineato vedete che c'è l'assicurazione 100% privacy noi non vi spammeremo mai bene sembra una cosa positiva no direi invece è assolutamente controproducente perché la persona che arriva su questa forma e sta decidendo se fare sagnacco o meno vede la parola spam e dice ma perché mi stai dicendo questo in realtà non lo pensa nemmeno è un priming negativo c'è automaticamente questa associazione di una cosa rivoltante passatemi questa parola ne sento qualcosa che non apprezziamo viene associata al business al servizio che stiamo proponendo e automaticamente le persone quindi muoveranno via cioè se ne andranno quindi evitiamo questi priming negativi queste associazioni negative c'è poi il bias dell'anchoring il bias dell'anchoring è un qualcosa di diciamo fantastico funziona soprattutto con i valori numerici però in realtà la sua definizione è un po' più ampia perché è la tendenza delle persone a basare le loro decisioni soltanto sul primo elemento il primo pezzettino di informazione che sono riusciti a sapere ok e tra l'altro la cosa è anche meno ancora meno bella di quel che sembra perché anche se quel pezzettino di informazione è totalmente scorrelato totalmente non ha niente a che fare con la decisione che dobbiamo prendere avrà effetto lo stesso infatti vi farò degli esempi perché si fatica un po' a capire la potenza di questo meccanismo sbagliato della nostra mente il primo esperimento che è stato fatto diciamo un pochino in questo senso è sempre di Kahneman diciamo col suo collega Tversky si era intorno agli anni 70 è stato quello di sottoporre la stessa operazione numerica a gruppi di persone di tester e però avevano solo 5 secondi per farla questa operazione quindi in realtà l'operazione non la potevano fare però dovevano stimare che valore ne sarebbe venuto almeno quindi una decisione da prendere in tempi rapidissimi quindi sistema 1 in causa non possiamo fare gli analitici col sistema 2 deve essere sistema 1 a darci la risposta giusto sistema 1 se gli viene proposta l'operazione sotto forma di 1 per 2 per 3 fino a 8 reagisce in un modo e in media la risposta era 512 se invece gli viene proposta come 8 per 7 per 6 per 5 in media la risposta era sui 2000 e qualcosa in realtà la risposta giusta è 4000 e passa vabbè ma nessuno si aspettava la risposta esatta il punto focale però è che a seconda di qual è il primo stimolo che le persone vedono ecco sono influenzati a dare una risposta diversa quindi vedendo prima l'uno ci si fa l'idea beh ma dai sarà basso sarà un 512 vedendo invece l'otto c'è un priming diverso appunto o meglio c'è un anchoring diverso io mi ho anchoro a quella informazione e tiro fuori un numero più grande il secondo esperimento è ancora più illuminante e anche un po' spaventoso se me lo chiedete in pratica alle persone alle persone era stato chiesto di dire ad alta voce gli ultimi due numeri del loro social security number che chiaramente è un numero del tutto casuale come il nostro codice fiscale quindi dire questi due numeri ad alta voce e poi dire se per una serie di oggetti comuni tipo una bottiglia di vino un paio di speaker qualcosa del genere loro sarebbero stati disposti a pagare quella cifra ok seconda fase dell'esperimento gli veniva richiesto di fare un'offerta loro un'offerta indipendente su quell'oggetto bene mediamente le persone voi o non voi comunque avevano un'influenza nella bid che avrebbero poi dopo fatto da questi due numeri del social security number c'è un'informazione che non ha niente a che fare con il problema sottoposto e che tuttavia poiché l'avevano ripetuta il loro cervello in qualche modo era rimasto ancorato a quella cosa ormai e niente si era attaccata questo è il meccanismo è un meccanismo molto potente ne siamo tutti vittima anche se non ne siamo consapevoli allora come possiamo utilizzarlo questa cosa per migliorare le nostre interfacce innanzitutto dobbiamo capire che è una buona cosa dare dei buoni default o suggerire dei valori in molti casi è un esempio classico che si fa è quello con diciamo le donazioni è molto molto più efficace suggerire una cifra mettere un default questo per due motivi il primo e forse più ovvio è che chiaramente si riduce il numero di scelte che l'utente deve fare deve a quel punto solo schiacciare un bottone si è ridotto il cognitive load la fluency al massimo appunto super semplice e quindi io posso andare avanti in maniera molto banale però mi dà anche un anchoring cioè mi dà un'indicazione ok loro si aspettano questa cifra come donazione quindi diciamo mi predispongono a dare delle cifre simili un altro modo per fare questa cosa è anche attraverso diciamo dare una cifra suggerita oppure mostrare qual è stata l'ultima offerta fatta da qualcuno che mi dà comunque un anchoring non solo mi dà un anchoring ma in quel caso si appoggia anche su un effetto di social proof cioè visto che altri lo stanno facendo ecco anch'io mi sento motivato a far bene abbiamo un correrissimo purtroppo e quindi la stessa cosa può essere fatta con i prezzi diciamo in discount mostrando il prezzo originale insieme a quello attuale diamo una percezione di valore insomma maggiore e poi c'è il retail advertising che anche confrontando diverse opzioni mi fa percepire la versione intermedia diciamo il pacchetto intermedio come il pacchetto a maggior valore semplicemente perché lo confronto con quello di valore più grande abbiamo poi la pick and rule che è una scoperta bellissima di Kahneman riguardo a come noi processiamo le nostre memorie come le immagazziniamo in pratica noi ricordiamo le esperienze di picco e poi come è finita la nostra la nostra esperienza non ricordiamo la durata non ricordiamo quasi null'altro è questo che immagazziniamo in memoria il che ha a che fare con il discorso di sopravvivenza perché non interessa soprattutto questo per capire se un'esperienza diciamo è pericolosa o meno fra virgolette se è finita bene ok se aveva dei picchi negativi se aveva dei picchi positivi wow allora noi dobbiamo utilizzare questa consapevolezza per cercare di capire dove investire valore nelle nostre interfacce prima di tutto dobbiamo creare dei picchi positivi quindi ogni qualvolta c'è un momento in cui possiamo celebrare quello che l'utente è riuscito a fare attraverso il nostro prodotto anche con delle cose umoristiche delle cose del tutto inattese creiamo un picco emotivo e quindi facciamo in modo di essere memorabili inoltre dobbiamo ridurre l'impatto dei picchi negativi naturalmente che significa testare per scoprire se ci sono dei punti fatti male delle nostre interfacce ma anche cercare di rendere gli inevitabili problemi un pochino più carini meno diciamo più tollerabili ecco mettiamola così e magari dando anche indicazione di come uscire dal diciamo dal vicolo cieco inoltre se l'utente completa un task è bene lasciare proprio una ultima impressione un ultimo ricordo memorabile e quindi celebrarlo in maniera particolarmente importante poi abbiamo la loss aversion che è quel meccanismo che ci porta a far sì che noi per noi è molto peggiore perdere qualcosa che già sentiamo nostro o che è nostro che non guadagnare qualcosa in più questo è un forte forte driver delle nostre azioni qui c'è l'esempio di quanto ci dispiace quando il collega ci ruba l'ultima donut e non ce ne sono più si sente proprio un sentimento proprio duro da digerire e ci sono tutta una serie di esperimenti nei quali adesso non mi addentrerò però per dirvi che noi siamo non siamo molto disponibili a cedere cose se noi partiamo per esempio nell'esperimento che così è stato fatto partiamo da una pizza con tutti i topping possibili e ci viene richiesto cosa vogliamo eliminare elimineremo molto poco perché non siamo disposti a cedere la pizza non è ancora nostra ma noi già la sentiamo nostra quella pizza piena di qualsiasi cosa quindi cederemo molti meno ingredienti se invece viceversa ci viene chiesto di aggiungere ingredienti sulla nostra pizza per completarla saremo saremo più parchi prenderemo veramente quello che magari ci interessa è proprio un meccanismo che non riusciamo a sconfiggere siamo degli ingordi se qualcosa la sentiamo nostra proprio la vogliamo già e allora uno dei metodi per sfruttare questa cosa è creare subito un bond emozionale con i nostri utenti magari dandogli un free trial per loro sarà molto più difficile rinunciare al nostro servizio dopo che l'hanno avuto per un mese questo infatti lo fa Netflix lo fa Dropbox per il business plan lo fa Amazon Prime lo fanno un po' tutti perché è veramente efficace inoltre vabbè possiamo chiedere all'utente di iniziare ad avere di creare qualcosa sulla nostra piattaforma in questo caso si parla di pianificare già il proprio trip prima ancora della registrazione quando poi tu l'hai salvato questo tuo trip ti diventa già un po' difficile rinunciare al lavoro che hai fatto e insomma abbandonare il sito quindi procedi e ti registri a quel punto inoltre possiamo creare la fear of missing out che è molto vicina alla lossa version creando questo effetto di scarsità affrettati perché il prodotto sta finendo muoviti sbrigati inoltre c'è un discorso di urgenza che può essere creato attraverso time out come down sì sì sta per finire oppure sta per iniziare forza forza cioè devi essere dei nostri oppure quando Amazon ci dice c'è solo un'ora rimasta per avere la consegna a domani e quindi tu ti affretti magari non l'avresti comprato ma quella cosa ti fa rompere gli indugi e quindi arriviamo ai designer biases cerchiamo di andare super veloci perché in realtà siamo fuori tempo mi dispiace allora il primo bias di cui siamo affetti come designer è quello che viene chiamato Maslow's Hammer o anche il Golden Hammer poiché conosciamo bene uno strumento il nostro martello allora tutto è un chiodo per noi vogliamo risolvere tutto con quel singolo strumento ok deve essere un po' come si sente Thor un altro un altro tipico problema che abbiamo è il confirmation bias noi siamo di un'idea tutto quello che sentiamo lo riteniamo vero o falso soltanto in virtù del fatto se aderisce o meno al mio preconcetto dopodiché c'è il congruence bias che significa io in pratica non vado veramente a fare ricerca ma vado a fare solo quei test che validano le mie ipotesi faccio solo test diretti non test indiretti che validano o che investigano altre possibili soluzioni ed infine c'è beh non infine il false consensus belief che è io vedo le cose così quindi tutti gli altri le vedranno così e chi non le vede così è un po' stranino cioè avrà dei problemi cioè io assumo che tutti debbano vederla un po' come la vedo io e questo come designer è molto pericoloso perché noi non siamo i nostri utenti ok quindi un'altra cosa bellissima però è l'experimenter bias che consiste in questo nel momento in cui si fanno dei test purtroppo si può rischiare di influenzare i risultati con degli atteggiamenti sbagliati non vi dilungherò sulla storia di Cleverance perché non abbiamo tempo però cercatela praticamente era un cavallo che rispondeva a operazioni aritmetiche riusciva a farle con 89% di successo ma in realtà poi studiando bene la cosa si è risposto che lui era sensibile alle espressioni microfacciali del suo padrone se il padrone insomma faceva delle facce per dire insomma no no non è quella lui capiva al volo e andava da un'altra parte quindi noi possiamo influenzare così i nostri tester di fatto quindi io volevo darvi queste guideline che per sconfiggere il confirmation bias insomma noi dobbiamo coltivare la curiosità ecco partecipare a dei talk ascoltare studiare mantenerci aperti e non fare assunzioni ma anche fare ricerca che significa testare diverse soluzioni mai andare sempre con la solita soluzione che conosciamo bene soprattutto testare con veri utenti perché solo loro potranno dirci se siamo sulla strada buona ed evitare di influenzarli durante i test i test vanno condotti nella maniera più obiettiva possibile senza creare queste diciamo questo feeling che loro devono darci per esempio un feedback positivo perché siamo stati così carini con loro non voglio farvi spiacere questo povero designer che ha fatto tanto lavoro non dobbiamo creare insomma delle situazioni che vanno a inficiare la nostra obiettività il che include anche formulare le domande per i nostri tester in una maniera che non si affetta da priming per esempio che cosa fa questo bottone non puoi chiedere una cosa del genere perché magari non è chiaro che è un bottone in prima battuta gli stai già dando l'informazione quindi stare attenti anche a come si fa i test per evitare l'experimenter's bias ok l'ultima cosa che vi voglio raccontare è la legge di trivialità di Parkinson che è una bellissima cosa che può avvenire nel mondo corporate spessissimo e comunque in azienda cioè succede questo le persone spendono un sacco di tempo a parlare di cose triviali di cose banali invece di concentrarsi sulle cose importanti ok questo succede soprattutto perché almeno così ci dice la scienza cognitiva perché le persone sono più a loro agio si sentono più diciamo intitolate ad esprimere un'opinione su cose semplici per cui che cosa fanno invece di concentrarsi sui problemi difficili vanno in automatico a trattare sempre a parlare sempre delle cose semplici questa cosa in informatica è anche conosciuta come bike shedding ovvero occuparsi del del magazzino delle biciclette fondamentalmente ovvero perché viene da una parabola un aneddoto raccontato da appunto uno studioso psicologo che faceva questo esempio se dobbiamo costruire un impianto nucleare scopriremo che in realtà la gente cioè i designer diciamo i manager che devono occuparsene magari spenderanno fin troppo tempo a parlare di come fare il rifugio delle biciclette per lo staff invece che parlare del core del progetto allora questo ha anche un corollario che è questo il problema del fatto che come designer spesso ti vengono a dire delle cose triviali e te le viene a dire il tuo manager o comunque il tuo capo perché vuole dare anche la cosiddetta quella che a Napoli si chiama la botta di masto scusate questa cosa però la dovevo fare però che sta a dire io sono il capo per dimostrare la mia autorità un cambiamento te lo devo chiedere non importa se sarà un cambiamento efficace giusto ma io qualcosa te lo devo far cambiare e se no sembra che non sto aggiungendo valore giusto e quindi devo darti un cambiamento come sconfiggere questo bias con la papera di Atwood è una tecnica che è stata diciamo inventata all'Interplay Entertainment che è una società che si occupava non so se era ancora di fare di fare videogiochi e avevano un gioco che si chiama Battle Chess e c'era questo animatore che doveva fare le animazioni della regina in tutti i casi se vinceva se perdeva se veniva insomma eliminata dalla scacchiera allora lui cosa fece fece tutte queste animazioni consapevole di questo problema con il suo producer fece tutte queste animazioni includendo una papera come animaletto di compagnia per questa per questa regina ok e questa papera stava in un angolino e anche lei si animava faceva cose a seconda di quella che la regina stava facendo però era un'animazione separata ok quindi era diciamo semplice rimuoverla e quindi quando venne il producer a esaminare tutto il set di animazione della regina disse wow fantastico bel lavoro solo una cosa liberati della papera e così diciamo il buon animatore riuscì a sconfiggere questo bias creando qualcosa di stupido che il suo capo potesse semplicemente eliminare senza far danni a come lui voleva veramente realizzare le animazioni della regina grazie ragazzi ho finito non so se c'è tempo per domande possiamo forse fare tempo per una domanda grazie più che una domanda è una preoccupazione perché mi hai fatto vedere che è praticamente molto facile manipolare un utente per rimanere sulla pagina magari scrivere se tutto quanto ed è ok fin tanto che per queste piccole cose ma alla fine sarebbe anche possibile manipolare come io percepisco una notizia o magari farmi sentire più o meno positivo verso un'immagine e essendo una cosa inconscia che succede mi pare che non ci sia nessun modo per me per difendermi o evitare che facciano questa cosa contro di me un po' bisogna bisogna applicare gli stessi diciamo contromisure che ho parlato di cui ho parlato anche per la parte dei designer no? cioè bisogna sempre essere consapevoli che noi abbiamo questa cecità verso i nostri propri bias e quindi verificare le cose confrontarci e mantenere una mente aperta perché la cosa peggiore è proprio quella di sentirsi come dire immune immune da queste cose la sola consapevolezza che questi bias esistono e che noi ne possiamo essere vittima già ci migliora un po' ci porta sulla strada di esserne un po' più difesi però è vero che bisogna coltivare questo atteggiamento anche di scetticismo in particolare per difendersi da cose come le fake news ringraziamo ancora lo speaker grazie ragazzi grazie a tutti